Musica Alla vigilia del Gran Premio di Monaco siamo con Alberto Antonini, direttore dell'ufficio stampa per Scuderia Ferrari. Come si presenta la Ferrari all'appuntamento di Monaco? Si presenta con i piedi per terra come è nostra abitudine, ma si presenta anche con il doppio dei punti dello scorso anno nel campionato mondiale costruttore e una seconda piazza abbastanza solida, mentre l'anno scorso eravamo terzi e a una certa distanza dalla vetta. Veniamo anche, ricordiamolo, da una sequenza di cinque arrivi a podio consecutivi in altre gare di quest'anno, non succedeva da 2007, l'anno di titolo mondiale di Chimi. Montecarlo è un circuito cittadino, questo pone particolari problemi per la Scuderia? Pone un po' per tutti perché naturalmente ci sono delle vigenze specifiche per questo tipo di circuito. Sentiamo dire in questi giorni Montecarlo è un circuito di trazione, come potrà andare la Ferrari su questa pista? È vero che in alcune occasioni non siamo andati benissimo nei tratti che richiedono trazione meccanica, ma è anche vero che in Baren, che è una pista che privilegia appunto la trazione, eravamo molto vicini ai nostri principali avversari, e comunque in ogni caso faremo tutti in questo gran primo la conoscenza con la gomma super soft della Pirelli, che è una novità per quest'anno, quindi con le mescole più soffici della gamma. Ci sono stati due giorni di test la scorsa settimana a Barcellona con Marcello e Gutierrez, come possiamo valutarne l'utilità? Sono stati utili perché sono serviti a confermare quello che avevamo già visto, cioè che il pacchetto aerodinamico funziona, e naturalmente aveva bisogno di essere messo a punto, di affinamenti, abbiamo lavorato anche in questo senso, tenendo sempre presente che appunto ci trasferiamo su un circuito adesso di massimo carico che per certi versi è unico. Che cosa possiamo dire dei nostri piloti, Chimi e Sebastia? Che tutti e due hanno già vinto a Monaco, e questo è molto importante per un pilota perché gli dà la fiducia. Detto questo, ripetiamo, teniamo i piedi per terra perché sappiamo che il compito non è assolutamente facile, ma ricordiamoci anche che proprio Chimi che l'anno scorso era già con noi, aveva sfiorato il podio e se non fosse stato tamponato poteva arrivarsi abbastanza agevolmente, quindi guardiamo con fiducia questa trasferta.